Se volete acquistare account moddati per GTA V a basso costo, passate su Moddinglantia, link in descrizione. Adriano, è la mamma puttana. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi siamo in una nuova modalità competizione, si chiama Caccia a Rino uscita ieri e adesso lo andremo a provare con Christian177ZA di 96. Benvenuti ragazzi, io sono X-Stunters. Come prendere per culo le persone nei miei video? Tutorial. Caccia a Rino? A Rino Gattuso. A Rino Gattuso, la buonanima che c'è ancora ovviamente. Comunque raga, è uscita ieri, sarà molto figa, l'abbiamo provata per capire che cos'è. Salutiamo tutti i membri della crew eccetera eccetera che sono entrati. Superiamo i 150 mi piace e passate da il canale di Christian e di Zedadri. Ovviamente il link è nella descrizione, altrimenti vi viene una tubercolosia atomica. E non lo scrivete a Christian, per Adri e Cataratta. Infatti, infatti. E niente raga, ci becchiamo dentro la partita. Ragazzi, si parte, siamo nella partita. Io mi sono vissuto da Noir. Poi c'è un deficiente che sta parlando. Raga, parto adesso perché ho mutato qua che c'erano persone che... Oddio, un cararmato che impenna, incredibile. Cararmato freestyle. Il bombarolo, Christian. Ma io gli vado direttamente addosso, l'investo. La violenza. La violenza, la putenza, la violenza. La putenza. No, 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 no. Da notare i bellissimi Cargobob che passano da sopra una guerriglia. Tutti tranquilli che dicono, uh, i Cargobob ti stanno ammazzando. No, ti aiutiamo. Mi stanno a picciare la macchia. Mi hanno colpito. No, no, no. Ho visto la tua vita a diminuire. Ah, c'è Adry e Christian che sono con i cararmati. Benissimo. Mi sembra giusto. Madonna, Adry, Adry. È troppo un overpower. Overpowering. Power power. Adesso faccio il salto della vita. Ammazziamo Alex in volo. Ho tutti addosso a me. Boom, bitch. Bastardi di merda. Mannaggia, madri. Mi hanno quasi eliminato. Mi è passato Adry da sopra, raga. Mi è passato Adry da sopra. Ma io a questo gli sto sparando di tutto e di più addosso. Non muore. Che cazzo è? Io Adry me la prendo con te oggi, eh. Perché Christian poi mi viene una super colosi. Beh, non so colosi. Ecco Adry. Adry che mi sta per mirare. Adry che mi mira. Puttana la 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 la. Adry, dove stai? Ti vengo a recuperare. Aiuto, Adry mi stanno a picciar nuca. Non ti stanno. Dove stai? Oddio che arrivano gli zingari. Occhio. Guarda, io. Guarda, io. Guarda, io. Guarda, io. Aiuto. Guarda, io. Oddio, voglio bugare la gara. Tutto in piano. Allora, nel secondo round, lo sapete che sarò io poi a mettervi la canna nel sedere, no? Che ha il buco del culo. Adria ti raggiungono gli zingari, occhio. Occhio, Adria. Tengo il culo. Porca puttana. Non ho preso Christian male prima. Merda, merda. Madonna, cattivo. No. Porca miseria. Perciò che vola, che vola. Arfai. Ragazzi, è un casino perché i cararmati tipo c'hanno la vita di Gesù, peggio. 10 secondi dai che si riviste. No, non ce la facciamo noi perché la vita tua è droppata. Tanti contro di me, te erano accaniti. Lo so. E qual è il bello? Esplodano tutti, Alexi. Madonna. No, no. Come? Ma che cosa è successo? Round vincitore. Va bene, con esso. Round vincitore. Anche se... Round stupratore. Ah, dritto. 18 kill. Guarda, incredibile. Sarà per la prossima volta. Siete di nuovo voi. Prima invece io ho preso il cararmato e Christian. Cioè, si sono cambiati. Non ha senso così. Madonna, mi è passato un missile da sopra. Mi è passato un missile da sopra. Incredibile. Da sopra. Da sopra. Miglio. Adriano. Hai la mamma puttana. Se Christian mi ammazza, tu hai la mamma zingara invece. Io c'ho la patria zingara. Sì, lo so. Già mi hanno fatto saltare tutti subito contro di me. Che l'hanno con te la via. Alexi. No. Oh. No, comunque ti ho preso. Ciccio a bomba. Ciccio a bomba. Dai, ragazzi. Ragazzuoli. Ragazznisni. Esploditi. Esploditi. Vuoi vedere che faccio Kalashnikov man? Vuoi vedere? No, no. No. Elva. Arriva, arriva. Posso fare Kalashnikov man? Vai, vediamo come sopravvivi contro sei persone. Boom. Meglio della caccia agli elefanti. Madone, che cazzo è? Sono un po' grossi. Aio. Aio. Addio. Vai, sì. Sì. Abbiamo vinto. Dai così. Credibile. Eccezionale. Ti ho fatto vedere l'uomo Kalashnikov. Ancora con sta bifta. Porca miseria. Io con la bifta io. Io pure. Io no. Io sembro con la bifta, Cristo, Fernando. Wink. Hanno cambiato i carri. Vai, Andrea. Eh sì, io sembro qua sto. A picciava. Vai, terzo round. Elimina il caccia. E mo' Matteuccio le faccio dire io. E mo' la schiaffia al culo. Guardate che c'è il caccia tranquillo che va lì. Guarda lì i zingri. E mi blom 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 bli. Esplodiamoli. X esplodiamoli. X esplodiamoli. No, no, no. Allora. Ma forca il troia. C'è Matteo Rinsi che c'è il caro armato. Quello sta fermo lì a sparare a tutti i zingri. Sparare a tutti i zingri proprio. Aspetta che è al salto qua. Ah, vedi che ho preso. Ti ho preso. Dai. Ma porca puttana. La casseruola. La casseruola. La casseruola. La casseruola. Che bello, quelli da squadra mia che mi vengono addosso. Ecc. Imploditi. Oh, stanno morendo però, eh. Però bisogna un attimo. Guarda, lo stuntman abbiamo lì. Chiodibile, c'è lo stuntman. Dai che stanno per morire. Stanno per morire. Ok, io mi sono esploso addosso. C'è Matteo Cio che sta morendo male con il cancrima proprio. Se lo facciamo esplodire. Esplodire. Oh, ce la possiamo fare, eh. Se vinciamo, vinciamo tutto. Mi stanno esparando pure a me. Mi stanno esparando pure a me. È morto X-Niko Mods Power Generation Mods. È morto X. Starter. Starter. X-Starter. Starter. Oddio. Che è che ha morto? Boom. Sì, hai fermato la serie di uccisioni di X-Niko Mods. Vai. Dai. Dai, e vinciamo. Incredibile. Cipollini. Cipollini, cioè. Oh, abbiamo vinto Griglia. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Sì, ma pure io ho vinto, perché stiamo insieme. Abbiamo vinto, abbiamo vinto tutto. Ditemi se è piaciuta questa attività, raga. È carina da farla con gli altri. Poi ne stanno altre quattro uguali, in altre località diverse. Guardate il DJ che schiaccia play. Incredibile. Sì, è Alex, proprio. Ragazzi, passate nei canali di descrizione di Christian e Adri. Vi scrivete, se no tubercolose e cataratta, quindi non dovete stare male, mi raccomando. Primo posto Christian, 25 uccisioni. Oli due pro, proprio. Due pro gamer. Da Matteucci e Niko Mods è una sola vittoria. Una sola vittoria. Quindi, raga, per questo video è tutto. Superiamo i 150 mi piace, commentate e condividete di questo video, iscrivetevi al mio canale e a quelli di descrizione. E ci becchiamo al prossimo video. Bella. Bella. Ciao.